Carissimi fratelli e carissime sorelle, vi ho già raggiunto con una lettera che sta avendo ampia diffusione fra di voi, nella quale vi faccio partecipi del mio stato d'animo e condivido con voi la vostra sofferenza, la vostra impazienza a volte e anche la difficoltà di comprendere questo tempo che stiamo vivendo e che in un qualche modo ci è capitato fra capo e collo. Le difficoltà non mancano, però nemmeno le opportunità. Questo tempo rallentato, quasi sospeso, ci permette di essere più presenti nelle nostre case, di riscoprire le relazioni fondamentali, quelle della filialità, della fraternità, della paternità, della maternità e quindi ci permette di rifondare la nostra vita sulla roccia e non sulla sabbia, come tante volte nella corsa che caratterizza le vite di tutti facciamo. Approfittiamo di questo periodo per poter leggerci dentro, per poter riscoprire più in profondità chi siamo. Come ci dicono le letture di questa domenica, noi siamo persone precedute dal Signore Gesù, che ci mostra il suo amore e il suo affetto e che nell'incontro con Lui fa emergere dal nostro cuore il nostro desiderio più profondo, appunto quello di essere amato e di amare. Questo tempo ci aiuti a far questo, questo tempo ci aiuti a riscoprire le cose importanti, anche mettendo da parte quelle che troppo spesso ci sembrano urgenti, come la brocca messa da parte dalla Samaritana per andare ad annunciare che Gesù era il Cristo, che Gesù le aveva letto il cuore, che Gesù le aveva dato il senso della vita. In Gesù, pregando nelle nostre famiglie come chiese domestiche, in Gesù pregando personalmente, in Gesù che si fa presente in mezzo a noi con la comunione spirituale, soprattutto con la lettura della sua parola, ognuno di noi e tutti quanti insieme cerchiamo di riscoprire proprio la sorgente che ci toglie la sete per sempre, il senso ultimo della nostra esistenza.